Capitolo 23. Ganimede fa esplodere tutte le bevande. La scuola non aspetta nessuno. È una famosa citazione, credo. Ed è vero. Venerdì mattina arrivò di nuovo, che io lo volessi o meno. Ero ancora dolorante per il combattimento con il lisso. Avevo la sensazione che il cervello mi fosse stato rivoltato dalle novità di mia madre. Non avevo studiato abbastanza per il compito di scienze e con questo intendo dire che non avevo studiato. Come se non bastasse, alla terza ora ricevetti una comunicazione di recarmi nell'ufficio orientamento e non ero nello stato d'animo adatto per essere risucchiato attraverso il pavimento da una valanga d'acqua. Persi! esclamò Eudora mentre entravo. Sembrava felice e in modo sospetto di vedermi, o forse era solo sorpresa che fossi ancora vivo. Ti prego, accomodati! Avevo un piano. Se avesse cercato di spedirmi un'altra volta in un tubo di scarico, avrei ordinato all'acqua di sollevarmi verso il soffitto. Poi le avrei rubato il barattolo di caramelle e sarei tornato di corsa in classe ridendo come un pazzo. Allora... Eudora intrecciò le dita e mi sorrise raggiante. Come va tutto quanto? Tutto quanto è tanta roba, risposi. Le raccontai di mia madre che avrebbe avuto un bambino. Eudora ne sembrò felicissima, finché non le spiegai che sarebbe stato un bambino umano, non un figlio di Poseidone. Oh, capisco, scrollò le spalle. Beh, è una bella cosa comunque, immagino. E i tuoi compiti in classe? chiese. E le lettere di presentazione? La aggiornai. Le raccontai che lunedì mattina saremmo andati in perlustrazione a Washington Square Park e sottolineai che non era necessario scaricarmi lì. Guardò rana malata come se volesse intervenire. E di preciso, che cosa state cercando a Washington Square Park? Il calice di Ganimede, risposi. Pensiamo che sia stato sottratto da un tizio di nome Gary. Eudora impallidi, come fa la sabbia quando la calpesti con un piede e tutta l'acqua schizza via. Sai, non è troppo tardi per pensare a un college statale. Ti ho parlato dell'Ohocus? Ho una brochure qui da qualche parte. Aspetta un attimo, potresti prendere un diploma di primo grado come ingegnere meccanico. Eudora, o come contabile, la New Rome University. La interruppi. Ricordi? L'obiettivo è quello. Perché tutto un tratto mi vuoi tenere alla larga? E ti prego, non dirmi che Gary organizza un corso di yoga. Eudora si spostò sulla sedia. No, no, e non si tratta tanto di tenerti alla larga, ma più di volerti tenere in vita. La guardai fisso, facendo del mio meglio per assumere l'espressione d'addio del mare infelice di mio padre. Così non mi aiuti. Sei la mia counselor per l'orientamento, quindi orientami. Chi è questo Gary? Sai, mi sono appena ricordata. Ho un impegno. Intorno a lei si sollevò un vortice verde. Una cortina d'acqua piombò giù, facendo schizzare le alghe sul pavimento, ed Eudora sparì. Lanciai un'occhiata a Rana malata domandandomi quanto dovesse essere cattivo questo Gary se una nereide si sottraeva con una scrosciata d'acqua a una conversazione. Rana malata non aveva risposte. Afferrai una manciata di caramelle e tornai in classe. Il pranzo non andò meglio. Mi sedetti con il mio sacchetto, un panino con le lasagne o un cupcake avanzati, e stavo cominciando a pensare che avrei potuto rilassarmi qualche minuto quando udì il sinistro tintin mio di qualcuno che mi riempiva il termos. «Ciao, Ganimede», dissi. Si sedette davanti a me. La brocca di vetro era umida di condensa. stavolta il liquido all'interno era arancione. Forse era la bevanda olimpica numero sei? Chissà. Indossava lo stesso chitone e gli stessi sandali dell'ultima volta, ma sembrava più sfinito dalla preoccupazione. Non più vecchio, certo. Gli dèi non invecchiano. Gli occhi però erano iniettati di core e attraversati da una rete sottile di vene dorate. Il volto aveva una lucentezza malsana, come se stesse per esplodere nella sua ardente forma divina, facendo evaporare l'intero corpo studentesco in mucchi di bevande in polvere. «Ti prego, dimmi che hai delle novità», esordì. È difficile raccontare una storia e mangiare un panino con le lasagne al tempo stesso. Così diedi la priorità al panino. Annuivo e mangiavo, osservando Ganimede che diventava sempre più agitato. Non sapevo come avrebbe preso la notizia. Se mi avesse vaporizzato almeno avrei mangiato un buon pasto per l'ultima volta. «Allora», cominciai passando al cupcake, «pensiamo che il tizio che ha rubato il tuo calice bazzichi Washington Square Park». Gli raccontai quello che sapevamo e il piano che avevamo elaborato per trovare il ladro. «Nettare», borbottò Ganimede. «Va bene, potrebbe funzionare». «Nessuna idea di chi potrebbe essere questo Gary?» domandai. «Hai dei nemici con questo nome?» scosse la testa. «Ho tantissimi nemici. Alcuni potrebbero chiamarsi Gary, non lo so». Sembrava così triste che avrei voluto garantirgli che sarebbe andato tutto bene, ma non ero sicuro di poterglielo promettere. Se fossi un dio e qualcuno mi dicesse che il mio prezioso calice si trova a Washington Square Park, sfrecerei là in una nuvola di furia giustificata e comincerei a spaccare teste e a rivoltare le tasche della gente. Ma, come mi era già stato spiegato molte volte, gli dèi semplicemente non fanno cose di questo tipo. Sarebbe contro le grandi leggi cosmiche della divinitudine o qualcosa del genere. Chiunque può rubare le tue cianfrusaglie divine, solo un eroe può riportartele. E per eroe intendo me, il fesso che aveva bisogno delle lettere di presentazione. E poi, se Ganymede avesse cominciato a fare a pezzi il Greenwich Village, immagino che le altre divinità se ne sarebbero accorte. Ma a quel punto la sua vergogna sarebbe stata sotto gli occhi di tutti. Il video sarebbe probabilmente diventato virale su Divintalk o qualunque altro social network stessero usando sul Monte Olimpo in quel periodo. Sarebbe di grande aiuto se riuscissi a capire perché questo tizio ti avrebbe rubato il calice, dissi. Perché mai uno dovrebbe farlo, commentò Ganymede. Per diventare immortale? Per mettermi in imbarazzo? Per diventare immortale in modo da mettermi in imbarazzo per l'eternità? Non lo so. Si sporse sul tavolo e mi afferrò un polso, conficcandomi gli anelli d'oro nella pelle. Devi recuperare il calice al più presto, Percy Jackson. Non abbiamo quasi più tempo. I miei sensi da coppiere fremono. Zeus potrebbe convocarmi per un banchetto da un momento all'altro. Oh sì, a proposito, gli raccontai quello che Iride aveva detto sull'Epolum Minerve della settimana successiva. Ganymede chino la testa. Tutti intorno a noi geyser di succhi di frutta, bebite gassate e acqua sgorgarono dai bicchieri degli studenti. Grida di meraviglia rimbalzarono per la sala mentre i miei compagni di classe saltavano giù dalle sedie per sfuggire alle bevande impazzite. Ganymede sospirò. Probabilmente dovrei andare a riempire quei bicchieri. Ma stammi a sentire, Percy Jackson. Zeus è imprevedibile. Potrebbe persino non aspettare fino all'Epolum Minerve. Non appena si mette in testa di fare un brindisi con le bollicine alla salute di uno dei suoi ospiti, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Io devo essere lì, con il mio calice in mano. Altrimenti ridurrai in bollicine te, tirai a indovinare. Molto divertente, bofonchiò il dio. Tu non hai vissuto per millenni temendo le parole un brindisi, alcuni dei miei peggiori incubi. La sua voce si affievolì. Non importa, ma non deludermi. Poi si alzò e cominciò a distribuire la bevanda olimpica numero 6 a tutti gli studenti assetati e inondati di bibite. Quel pomeriggio fece una cosa strana. Andai in biblioteca. Sì, lo so, riesco quasi a sentire la puntina del giradischi che gratta nella vostra testa mentre cercate di elaborare quest'idea. Se vi dicessi che ero precipitato di nuovo nel tartaro, o che ero stato inghiottito da un gigante, o che avevo dovuto fare bungee jumping in un vulcano, direste qualcosa tipo, sì, certo, che c'è di strano. Ma persi che vai in biblioteca? Con me non c'entra nulla. La verità è che non ho niente contro le biblioteche. Sono luoghi tranquilli e piacevoli da frequentare e tutti i bibliotecari che ho conosciuto sono persone in gamba. È solo che sono piene di libri. Essendo dislessico, tendo a pensare alla parola libri come sinonimo di emicrania. A volte però i libri sono l'unico posto in cui si possono trovare informazioni, quindi bisogna rischiare il mal di testa. E con questo ho concluso la mia dissertazione sull'importanza della lettura. In ogni caso mi serviva un luogo per pensare. Volevo capire cosa avrei fatto la mattina dopo contro Gary, il ladro di calici. Provai prima con il computer della biblioteca ma, come sempre, internet fu inutile. Tutte le cose strane che mi trovo ad affrontare sono talmente antiche e bizzarre che nessuno si è preso la briga di creare un wiki per i fan delle cose che uccidono i semidei. Se riuscite a trovare delle informazioni sui mostri online, di solito si tratta di come sconfiggerli in qualche videogioco. Nella vita reale, tenere premuto il tasto Z mentre si gira a sinistra non serve a molto. Così mi buttai sui libri. trovai cinque diverse collezioni di mitologia greca. Le esaminai tutte. Mi ricordai perfino che in fondo c'era una cosa chiamata indice. Controllai se c'erano divinità o mostri con nomi che potevano assomigliare anche lontanamente a Gary. Le sorelle grigie, Gerione un'altra volta, un lupo norreno di nome Gary, ma non essendo io il possente Thor non avevo voglia di attraversare quel particolare ponte dell'arcobaleno. Avevo già abbastanza cose di cui preoccuparmi sul versante greco. Alla fine misi via i testi di mitologia. Tirai fuori i miei libri e tentai di studiare. Un piede non smetteva di tremare. La testa non smetteva di ronzare. Avevo la sensazione di osservare me stesso mentre cercavo di studiare invece di studiare per davvero. Mi interessava a diplomarmi. Mi interessava andare alla New Rome University con Annabeth, ma non mi interessavano le scienze né la letteratura americana o i saggi persuasivi. E nonostante sapessi che erano connesse al mio obiettivo generale, avevo difficoltà a convincermene. Non riuscivo a concentrarmi su quello che leggevo. Scressi una frase per un tema e in questo saggio persuasivo vi persuaderò... Ok, mezza frase. Fissai il libro di scienze. Pensai alle sorelle grigie e ai lupi grigi e agli spaventosi gheri di Washington Square Park, ma l'immagine che continuava ad affiorarmi alla mente era la faccia di Ganymede quando parlava dei suoi incubi. Mi ricordava un compagno di classe del primo anno che era stato rapinato mentre andava a scuola. Gli occhi come finestre vuote, una faccia che aveva dimenticato come essere espressiva. Ilisso aveva quella stessa faccia dopo che avevo fatto esplodere il suo fiume. Mi sentivo ancora in colpa. Ganymede aveva un tormentatore eterno più grande nella sua vita. Zeus. Un tipo a cui ho tentato con tutto me stesso di non assomigliare mai. Non conoscevo l'intera storia tra le due divinità. Come sempre i miti raccontano solo la versione di Zeus, ma era ovvio che Ganymede non se la cavasse molto bene sul fronte salute mentale. Tentai di immaginare la mia vita fatta a pezzi come quella di Ganymede, rapito da ragazzino e trascinato sul monte Olimpo perché Zeus pensava che fossi una vera delizia per gli occhi e poi rimanere bloccato in quella situazione per sempre. Senza mai invecchiare, senza mai crescere, senza mai ammalarmi, senza mai guarire. Mi resi conto del motivo per cui mi sforzavo di trovare risposte. Non consideravo più questa impresa soltanto una scocciatura. Volevo aiutare Ganymede. Se avessi potuto portarlo nel locale di Ebe e cantare insieme a lui antiche canzoni greche al karaoke finché non fosse riuscito a invertire la sua vita e a tornare mortale, lo avrei fatto. Dato che non potevo, dovevo recuperare il suo calice. Alla fine lasciai perdere lo studio. Mentre tornavo a casa, preoccupato che il lunedì mattina sarei stato del tutto impreparato per qualsiasi cosa ci saremmo trovati davanti, mi sentì un fallimento. Forse quella notte avrei potuto fare una bella dormita e invece non mi riuscì nemmeno quello. Capitolo 24. Mi lavo i denti nel modo più eroico possibile. Dopo un fine settimana privo di eventi, Annabeth fece irruzione in camera mia alle 4 e 30 di lunedì mattina, cosa che sembra molto più eccitante.